Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Finalmente si riparte, abbiamo messo da parte le feste, quindi Natale, Santo Stefano, la vigilia e tutto quello che è stato, buon lunedì e si ricomincia da zero, perché non domani, non dopodomani, ma il giorno dopo dopodomani, che non ha un nome ben preciso, la Juventus si ritroverà per preparare la partita contro il Napoli. Sarà bene o male oggi il tema del video principale. E le belle notizie per la Juventus sono i ritorni in gruppo molto probabili di Chiesa, Debala e Chiellini. Non ancora la certezza matematica al 100% di Danilo, incrociamo le dita affinché possa esserci, perché sicuramente anche questo è un recupero interessante. Poi dal fatto che saranno aggregati in gruppo e quindi ricomincerà gli allenamenti con la squadra, saranno a disposizione di Allegri al vederli in campo, beh, questo è tutto un altro discorso, è ancora abbastanza presto. L'importante è sapere che li avremo. Poi dal primo minuto penso nessuno dei tre barra quattro, perché comunque Allegri darà continuità a quelli che ha avuto, a quelli che erano più in forma e quelli che comunque hanno dei ritmi differenti. Però per qualche minuto sia Chiesa che Debala diventano delle armi importantissime partite in corso, tipo come è accaduto con l'Inter. Ricorderete che sia Debala che Chiesa erano in panchina all'inizio, e poi sono entrati e hanno cambiato il volto della Juventus, tanto da arrivare poi a pareggiare con la partita su quel rigore che è ancora discusso, ma per me lo rimane il rigore, che poi ha segnato Paolo Dibala per l'1-1 finale. Allora, un mi piace a questo video perché andiamo ad analizzare quella che è stata la storia di Juventus e Napoli e quella che sarà la storia di Juventus e Napoli e soprattutto scaricate OneFootball, perché ora vi ho dato questa piccola notizia sui rientri in gruppo, c'è anche un'altra notizia che andremo ad analizzare all'interno di questo stesso video, ma tante altre notizie di mercato passano da OneFootball. Quindi il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, l'applicazione è completamente gratis. Vi aspetto. Perché dobbiamo parlare di Juventus-Napoli? Perché è la partita, è il modo di iniziare il 2022 nel migliore dei modi. Nel senso che la Juventus in questo momento sta bene, è una squadra in salute, è una squadra che difficilmente prende gol, è una squadra che sta macinando punti e non ha ancora prestazioni. Speriamo di arrivarci. Io rimango della mia idea. Temo che questa Juve sia malata, nel senso che difficilmente riusciremo ad aggiustarla sotto il profilo delle prestazioni per stare tranquilli, quindi chiudere le partite, non tanto per il giocare bene perché, come sapete, quello non è un parametro che prendo in considerazione. Infatti mi fa ridere che della gente ancora mi scriva, ma come? Nelle analisi io non ti sento mai giudicare il gioco della Juve. Perché il gioco della Juve, mi interessa giudicarlo sotto il profilo dell'efficacia. E quello lo dico spesso, se dobbiamo parlare dell'estetica, non uscirà mai dalla mia bocca un discorso relativo al, e che bello, facciamo un gioco davvero fantastico dal gran che è bello. No, mi dispiace, questo non lo dirò mai, ma soprattutto perché è una roba soggettiva. Quindi una cosa che può piacere a me, può non piacere a voi, viceversa. Quindi non aspettatevi questo dalla mia bocca. Ma temo che questa Juve sia malata, nel senso che delle prestazioni in cui andiamo a dominare le partite lungo il largo sotto il punto di vista dei tiri in porta che si traducono in gol, temo che non accadrà. Temo che non accadrà, ma migliorare la statistica dei 27 gol in 19 partite quello sì, e anzi non penso nemmeno che sia difficile fare di meglio di quanto abbiamo fatto sotto il profilo dei gol segnati nella prima parte di stagione. Però, però, Juve-Napoli diventa importante, soprattutto perché nell'ultimo periodo il Napoli, caduta verticale, la Juventus risalita invece. Quindi sono lì, sono lì, lì. Si guarda la classifica e si dice, oppa lala, una roba che sembrava assolutamente impossibile, che io tuttora ritengo utopica, perché lo sapete che io mi sbilancio poi a febbraio, non adesso che non vale niente, a febbraio, dopo aver finito quel filotto incredibile di big match, però capiamo bene che vincere quella partita lì diventa quantomeno interessante. Però c'è un'arma a doppio taglio, cioè se perdi quella partita lì, tutta la rincorsa, l'entusiasmo e il danno psicologico nei confronti del Napoli che ha perso tutto questo vantaggio, la Juve che l'ha riacquisito, una bolla di sapone. È per questo che non mi voglio sbilanciare adesso, con calma, con calma. Quindi una partita da non perdere sicuramente. Da vincere molto probabilmente. Un pareggio, devo dire la verità, mi darebbe un po' fastidio. Devo dire la verità, mi darebbe un po' fastidio perché il Napoli in questo momento è una squadra che ha delle assenze importanti. A tal proposito ieri qualcuno, non lo so, possiamo dire, io spero ironico, ma qualcuno sicuramente anche in mala fede, ha iniziato a paventare l'idea che Juventus-Napoli non si giocherà perché Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19. Ora, Fabian Ruiz è sì positivo, ma come l'ha comunicato a Napoli è in Spagna, in isolamento e quindi non ha avuto modo di entrare in contatto con il gruppo squadra, non ha avuto modo di contagiare alcuno dei suoi compagni di squadra. Quindi, risolta qua? Io spero di sì, mi auguro di sì, perché parto dal presupposto che l'importante è sempre no salvaguardare la salute di tutti. Questa è la cosa più importante in assoluto. Cioè, con una pandemia in corso è ovvio che se ci sono dei positivi o il rischio di creare un vero e proprio focolaio, allora la partita ci sta a non giocarla, anche se il regolamento dice altro. E qui vado a citare quello che è accaduto sia la scorsa settimana con la Salernitana, sia con il Napoli lo scorso anno quando non si è presentato a Torino. Però, se con uno barra due positivi l'ASL teme che ci possa essere un focolaio, allora io non sono d'accordo. Non sono d'accordo, perché io capisco che la regola sia intorno ai dieci positivi, una roba del genere. Uno più, uno meno, giocatori in movimento, portieri, quello che è. E le ASL sicuramente hanno il potere di fermare le partite, lo stiamo vedendo, in caso di rischio concreto. Il Napoli in questo momento ha due positivi, che sono Fabian Ruiz, che è in Spagna, e Insigne, che è a Napoli in quarantena da prima di Natale. Quindi mi vien da dire che il gruppo squadra è abbastanza protetto. Pensare in questo momento che l'Iventus Napoli non si possa giocare, devo dire la verità, mi sembra più una cattiveria gratuita nei confronti del Napoli e per quello che è successo lo scorso anno con l'ASL per Juventus Napoli e qualche settimana fa con la stessa ASL per Udinese e Salernitana. Niente di più, niente di meno. Però c'è da sottolineare come appunto quelle due trasferte siano state bloccate per uno barra due positivi. La Salernitana oggi non ha ancora comunicato sul sito ufficiale, ho controllato pochi secondi fa, i nomi dei positivi. Era venuto fuori un positivo, poi hanno detto beh, la mattina dopo ne è saltato fuori un altro e poi ce n'è uno asintomatico. Chi sono? Sono calciatori? Non ne abbiamo idea. Quindi pensare ad oggi che l'Iventus Napoli possa essere rinviata per Covid, per il blocco da parte dell'ASL, ribadisco, è una cattiveria basata sul fatto che in passato l'ASL è stata un po' troppo, non so neanche come giustificare, non posso dire larga perché non è che abbia fatto un piacere, però è stata un po' troppo, non lo so, ha avuto un allarme che probabilmente poteva scattare con un po' più gli indici di pericolosità. Diciamo così per non dire una fesseria. Quindi io vado ad analizzare anche l'andata di Napoli-Juventus, che si gioca alla terza partita di campionato mi pare, dove c'era stata una pausa nazionale in mezzo. La Juventus si presenta a Napoli con questa formazione titolare. Ciesli in porta, Pellegrini a sinistra esordio da titolare per Pellegrini esordio da Juventus, Schiellini e Brunci in mezzo, Desciglio a destra, Rabiot-Locatelli, McCennie, Kuluseschi, Morata e Bernardeschi. Questa è stata la formazione schierata da Allegri. In panchina c'erano De Litt, Ramsey e Keng, che poi sono entrati, Pinsoglio per i Rugani, De Winter, Solé e Miretti. Stiamo parlando di 17 giocatori in totale per la Juve, di cui tre portieri e tre under 23. E quella partita si è disputata in una situazione di emergenza clamorosa da parte della Juventus, che è andata a Napoli. Ha fatto una partita insufficiente, perché è stata una partita insufficiente da parte della Juve, che però analizzandola nell'assenza, analizzandola in quello che è stato, cioè il Napoli non dico a pieno organico ma quasi, la Juventus con fuori tantissimi giocatori, ve li cito, Dybala, Chiesa, Quadrado, Danilo, Alexandro, Bentancur, di cui i sudamericani erano con le nazionali, erano tornati in tempo, più Chiesa stesso che, insomma, caccia via, che era infortunato con la nazionale, più altri due infortunati, che erano Arturo e Cagiorgi, che erano fuori, per cavoli loro, però Juventus si è presentato con un sacco di assenze, e ha fatto la partita che poteva fare. E per quello che prima vi dicevo, il pareggio sì ma no, perché comunque il Napoli non avrà a disposizione Ossiman, Koulibaly, che sono infortunati, e probabilmente in Coppa d'Africa, perché se si giocherà la Coppa d'Africa questi saranno via, insieme ad Anghissa, Mario Rui, che è squalificato, io insieme non lo metterei nemmeno perché ormai è in quarantena da un pezzo, quindi è Fabian Ruiz che ha il Covid, non è che stiamo parlando di 14 milioni di giocatori fuori nel Napoli, come era stato per la Juve, però capisco che il peso di Ossiman, di Koulibaly, di Anghissa, di Mario Rui e di Fabian Ruiz, che questi dovrebbero essere i cinque sicuri assenti nel Napoli, se vogliamo aggiungerci insigni, aggiungiamolo, che magari sarà il discorso come chiesa di balano a tutti i minuti, entrare dopo, non lo so, però quei pesi specifici lì pesano, cioè sono dei giocatori importanti per il Napoli che ti cambiano la squadra, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite dove il Napoli quando era pieno organico andava forte, macinava punti, risultati e prestazioni. Quando sono iniziati a mancare questi giocatori, meno è interessante vedere com'è, quando si fa male il centravanti del Napoli, Ossiman, viene si sostituito da Mertens, che comunque fa anche abbastanza bene, ma non è la stessa cosa rispetto ad Ossiman, che giocare con un centravanti è un conto, giocare con Mertens è un altro, che sì, magari ti fa qualche gol, però poi la squadra fa più fatica a giocare senza un vero e proprio punto di riferimento là davanti e da quando non c'è più Ossiman il Napoli sta facendo fatica, questo è un bel parallelo che posso fare chiave Juventus, no? E quindi questa è la storia, penso che si giocherà, Juventus-Napoli si giocherà come si era giocata Napoli-Juve nelle assenze, nell'emergenza della Juventus, si giocherà Juventus-Napoli nell'assenza, nell'emergenza del Napoli, poi io sono sempre di quella, per me la partita è bella quando ci sono tutti, all'andata non c'è stata Juve, il ritorno non ci sarà il Napoli, spero che il risultato possa essere positivo per noi come l'andata è stato per loro e rischi coronavirus, per il momento non ce ne sono, perché insegne è in quarantena prima di Natale, è Ruiz, è in Spagna e basta, se poi salteranno fuori altri positivi da Juve e Napoli, io questo non ve lo so dire, però ad oggi mi sembra follia iniziare a pensare che non si possa giocare Juventus-Napoli perché Fabio Ruiz in Spagna è risultato positivo e il Napoli altri 4-5 assenti, il calcio è questo, come siamo venuti noi a giocare a Napoli, verrete voi a giocare a Torino, è inutile che giriamo intorno, facciamo, sarà così, se salterà fuori altro non lo so, ad oggi sarà così, e parlavamo di centravanti, però si menne per il Napoli, proviamo a parlarne della Juve, perché ieri vi ho parlato di Cardi, ma attenzione che c'è una vocina che sta circolando per Twitter che riguarda Luis Muriel, perché? Perché Muriel? Perché l'Atalanta ha preso Boga, tra l'altro, mica male l'Atalanta che prende Boga a gennaio, un giocatore che mi sembra abbastanza atalantino, frizzantino come quelli che piacciono al Gasp, e quindi Muriel già che non è proprio contento del suo utilizzo in stagione, dice, ha un ragionamento molto logico, prendono un altro attaccante, e allora se già non ho giocato quanto volevo, ne prendono un altro, ma io quando gioco, e Muriel sembra molto vicino al Milan, perché il Milan starebbe sondando il terreno, dato che non è soddisfatto dell'operato di Giroud, sta cercando qualche attaccante, si è parlato anche di Beto, tra l'altro, che Beto è il mio nome, è il mio uomo, io ve lo ribadisco, Beto a gennaio, e ci abbracciamo, perché una roba del genere potrebbe essere indice di quello che è il momento della Juventus, vabbè, ne parliamo magari in un altro video, si è parlato di Beto, ma si è parlato anche di Muriel, che è stato accostato pure la Juventus, io rimango della stessa idea, ne abbiamo parlato anche mesi fa di Muriel, è ovvio che Muriel è un calciatore fantastico, non più giovanissimo, ma non è tanto questo quanto più l'utilità che avrebbe Muriel all'interno della Juve, noi sarebbe un centravanti, un nuovo dare di rigore, è un finalizzatore, Muriel è un calciatore che ha dei colpi, ma è un calciatore che ama svariare su tutto il fronte offensivo, quindi temo che non sia esattamente quello che serve a noi in questo momento, poi arriva Muriel, fa 20 gol in 19 partite, sono felicissimo, però non mi sembra esattamente il profilo ideale per la Juventus in questo momento, e concludo molto velocemente il discorso Muriel, ma lo prendo come assist, guardate com'è tutto collegato, parliamo di Ossimen, quindi andiamo su Muriel, poi da Muriel, prendo la nazionalità colombiano, la Juventus e Quadrado, come confermato dal mio amico Romeo Agresti e Roma ti rubo la notizia, che ormai l'hai già data a te, quindi cosa ti rubo è di seconda mano, Quadrado dovrebbe rinnovare con la Juventus, si sono incontrati, dovrebbe andare tutto a posto, con calma, quando sarà ora, quando sarà il momento di annunciarlo, ma come è normale pensare, ora c'è un po' di preoccupazione tra i tifosi, perché il 27 di dicembre Quadrado e Dybala tra quattro giorni possano firmare con chi vogliono, Romeo dice, calma, tranquilli, non c'è problema, Dybala tutto fatto, si sta aspettando che il procuratore diventi ufficialmente un procuratore, quindi un patentino, una sorta, una carta, un foglio, un attestato, si va a gennaio, febbraio, non si sa, ma Dybala è tutto fatto, quindi non va via a zero, nemmeno Quadrado, perché le parti, quindi Juventus e Quadrado sono abbastanza allineate, Quadrado vuole rimanere a Juventus, a Juventus vuole rinnovare a Quadrado, anche altri top club europei si sono interessati a Quadrado, l'entourage non ha nemmeno preso in considerazione la proposta, perché Quadrado rinnoverà con la Juventus, bene, sono contento, vedremo per quanto, perché anche Quadrado è un giocatore che inizia ad avere una certa età, però per uno o due stagioni, ancora Quadrado me lo tengo fermo, ma è il discorso che facevo ieri, se devo andare ad acquistare un giocatore di 33-34 anni sul mercato pagando il cartellino e dandogli un ingaggio elevato, faccio un po' fatica a dirgli di sì, perché non rientra nella filosofia nuova della Juventus che abbiamo iniziato nel post a Sarri, compirlo, quindi giocatori giovani che possono essere utilizzati e che poi possono essere rivenduti, abbiamo fatto il ragionamento ieri nel video che vi lascio comunque qui sopra nelle schede, Quadrado non è un giocatore giovane, ma è un giocatore che da Juventus da tanti anni rendimenti sempre di alto livello e che quindi non devi acquistare spendendo soldi per il cartellino perché è già tuo, basta una firma sul contratto che non so se sarà salire scendere, sarà bilanciato, ma rimane tuo e quindi non devi investire nulla e ti rimane un giocatore, perdere Quadrado a parametro zero invece significa dover andare sul mercato ad acquistare un giocatore e io spero che si faccia parallelamente questa cosa, nel senso rinnovo Quadrado allo stesso tempo ragione dico attenzione perché Quadrado tra poco scade un anno o due anni, in questi due anni mi devo mettere avanti per trovare il suo sostituto che possa essere il terzino, che possa essere l'esterno, possa essere l'ala, io non lo so però la Juventus intanto deve acquistare il futuro erede di Quadrado e magari il primo anno lo faccio giocare in una squadra di serie A di bassa, media o classifica, si fa la sua esperienza, l'anno dopo rientra alla Juventus e si fa un anno in compartecipazione con Quadrado in modo che quando Quadrado lascerà la Juve sarà pronto il suo erede, questa è un po' la mia filosofia, ma fatemi sapere anche le vostre, secondo voi se giocherà Juventus-Napolo ripetisco, per me grande sì perché non vedo assolutamente i motivi per cui non giocare questa partita, Muriel sì, Muriel no, ma a me Muriel piace tanto, è uno dei calciatori che mi affascina di più all'interno della serie A, però non ne vedo l'utilità, Quadrado rinnovo sì o no, voglio sapere le vostre, ci vediamo oggi pomeriggio con un altro video, ciao!